Qui un bellissimo momento con Guido Cargiulo della Lega Navale di Sorrento e Angela Sorrentina, Presidente di Oltre i Sogni, per questa bella giornata fatta qui alla piscina, al Chiembich dei Pini. Che cosa farete in questo momento? Allora, un mancesto buongiorno a tutti, Guido Cargiulo che rappresenta la Lega Navale di Sorrento. Vogliamo ringraziare il lavoro che fanno gli operatori e tutti chi gestisce la cooperativa e vogliamo lanciare anche un più piccolo progetto. La prima cosa è che devo consegnare questo alla Presidente perché è un... E la Presidente poi ce lo apre? Sì, assolutamente sì. È fatto da un artista di Massa Lumprense che nel periodo invernale cerca delle tavole a mare e poi ci disegna sopra i pesci della nostra costa. Come si chiama questo artista? Cappiello Antonino. Antonino Cappiello di Massa Lumprense. Ma tu forse non lo sai che Cappiello Antonino è anche il cugino di mio marito. Guarda la costa, guarda che piccolo è il mondo. Eccolo qua, quindi le cose belle si incrociano. Eccolo qua. Questa corvina su questa tavola e poi la metti nella serveteria. Bellissima. Di ciclo che cosa vogliamo fare? Vogliamo portare un acqua all'interno della vostra struttura, fare lezioni ai vostri ragazzi, spiegare la flora e la fauna della nostra costa e divertirci. Grazie. Assolutamente, grazie a Guido, alla Lega Navale. A Positano News anche. A Positano News, perché no, e anche al grande artista Cappiello. Grazie. Vi ringraziamo. Come al solito, i ragazzi sono sempre felici di nuove offerte, di nuove possibilità. Grazie.